leggi interpretandolo leggi interpretandolo ma cosa devo dire? e li leggere interpretandolo mettendici un po' di tubo vabbè io sono un giovane e sono fiero di praticare il sadomasochismo non sto interpretando il sadomasochismo no non vedo e dai porcellini tuffi lui viola mi piace perchè è un insieme di pratiche erotiche basate sull'imposizione di sofferenze tipiche tramite oggetti che possono provocare sofferenze come si dice etch 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 o mentali quando lo pratico urlo scrofa in vita ahahah ahahah ma mi piace un sacco ahahah dovrebbero farlo tutti cosa che non piace più aspetta che mi sta chiamando qualcuno ahahah quando mi ha messo dei perri pronto incandescente sul perro o mi legano i genitali ai morsetti della pastiglia per auto oppure quando c'è quella carinissima scimmia che mi stritta le palle con i piatti ahahah ahahah ma è importante stagliare che io uso gesti erotici sicuri sani e cosessuali tipo le caramelle vissalo grazie al sadomasochismo ho vinto un premio nobel ahahahahah grazie 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 grazie